pillole di dizione rubrica a cura di dizione.it il sito della dizione italiana quando ci cade l'accento ci interessa la sillaba tonica avremo la e aperta nelle terminazioni in ebbo ebba ebbi ebbe ebra ebre ebri ebo eba ebi ebe vi faccio degli esempi debbo debba ebbi ebbe ebra febbre la lebra la gleba la plebe il sebo e poi avremo la e aperta nelle terminazioni in eco eca echi eche biblioteca bieco teca trichechi nelle desinenze verbali dei condizionali in e ebbe ebbero troviamo la e aperta ricordate prima persona singolare terza persona singolare e terza plurale facciamo degli esempi farei ballerei cadrei darebbe farebbe aprirebbero mangerebbero dovrebbero continua a studiare su dizione punto it scarica le prime lezioni gratis e migliora la tua voce dizione punto it il sito della dizione italiana